Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su questo canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono anche attiva su Facebook, trovate il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ci troviamo a Temù, un piccolo borgo montano della Val Camonica, in provincia di Brescia. La protagonista di questo caso si chiama Laura Ziliani. Laura nasce a Temù nel 1966, diventa una vigilessa ed è appassionata di escursioni. Conosce Enrico Zani, insegnante di matematica all'Istituto Meneghini di Edolo, che condivide con lei questa passione per l'escursionismo. I due si frequentano, si piacciono e dunque si sposano. Dalla loro unione vengono al mondo tre figlie, Silvia, Lucia e Paola. Laura è innamoratissima del marito, ma ahimè, nel 2012 Enrico Zani muore a soli 53 anni nell'ospedale di Edolo. Era stato ricoverato dopo essere finito sotto una valanga, mentre praticava lo scelpinismo, insieme all'amico Aldo Sandrini. Laura è devastata da questo lutto, è sopraffatta da una profonda depressione che la induce a lasciare le sue adorate montagne per trasferirsi a Brescia. Comincia così a lavorare nel comune di Roncadelle come impiegata dello sportello unico delle imprese. Chiaramente questa scelta per Laura non è stata facile, perché ama il luogo in cui è nata e cresciuta. Infatti decide di non mettere in vendita la casa di Vicolo Ballardini 11, così può tornare a Timu, almeno nei weekend, per fare qualche passeggiata. Laura è una madre premurosa e attenta. Il suo cuore è riempito soprattutto dall'amore che nutre per le sue tre figlie, di cui una è affetta ad autismo. Anche le tre sorelle sono molto legate tra loro. Col tempo Laura torna sempre più spesso nella casa dove era stata felice con tutta la sua famiglia. Quando può, non perde mai l'occasione. È contenta di rivedere i vecchi amici e gli altri abitanti del paese e soprattutto, come già vi ho detto, ama fare escursioni, riscoprire i luoghi della sua infanzia attraverso le passeggiate, sia a quote medie, sia in alta montagna. È una camminatrice esperta. Laura, man mano che il tempo passa, riesce a lenire le ferite, a superare il periodo di crisi. Conosce un altro uomo, Riccardo Lorenzi, e pare che la vita torni a sorriderle. Ora torniamo a parlare delle figlie di Laura, Silvia, di 27 anni, Lucia, di 25, e Paola, di 19. La primogenita lavora in una casa di riposo a Timu, anche se la madre risiede a Brescia. La più piccola studia economia e lavora come impiegata in uno studio di commercialisti. Nel maggio del 2021, Lucia, la figlia mezzana, vive a Brescia con la mamma. Anche Silvia e Paola abitano a Brescia, dove condividono un appartamento. Tuttavia, la figlia maggiore si alterna. Infatti, spesso si sposta a Timu, nella vecchia casa della madre, dove ospita anche il proprio fidanzato. La casa Timu, inoltre, è particolarmente ampia, quindi decidono di destinare una parte dell'abitazione alla creazione di un bed and breakfast. Arriviamo all'8 maggio 2021. Sono circa le 11.30 della mattina, quando Silvia e Paola si recano dai carabinieri per denunciare la scomparsa della madre. Le ragazze spiegano che Laura, quel mattino stesso, era partita da casa alle 7.05 per una delle sue passeggiate sui monti. Laura sarebbe dovuta tornare verso le 10, perché aveva appuntamento proprio con Paola, Silvia e il fidanzato di quest'ultima. Avevano in programma di sgomberare una parte della casa, in quanto stanno facendo dei lavori di ampliamento del bed and breakfast, posto all'interno dell'abitazione. Le ricerche di Laura partono immediatamente, le montagne circostanti vengono battute palmo a palmo diverse volte. Oltre 250 persone sono impegnate nelle ricerche. Complessivamente vengono scandagliati 91 settori per oltre 2000 chilometri di tracce GPS. Come indicato dai protocolli, le attività di ricerca vengono però interrotte il 17 maggio 2021. Anche se non compie ricerche sul campo, un'unità della protezione civile è comunque a disposizione della sede del soccorso alpino di Temù. Gli agenti sono convinti che Laura è stata vittima di un incidente, visto che stava facendo una passeggiata in montagna. Il 23 maggio, finalmente, ecco che arriva una novità. Un uomo trova una scarpa da montagna abbandonata su una pista ciclabile vicino a un torrente nella zona di Temù. Emerge che quella scarpa apparteneva proprio a Laura, dunque le ricerche ripartono battendo la zona in cui è stata trovata la calzatura da trekking. Purtroppo anche queste spedizioni non conducono ad alcun risvolto. A questo punto i carabinieri iniziano a guardare con sospetto due delle figlie di Laura, Silvia e Paola, perché avevano denunciato la scomparsa della madre un po' troppo presto. Mi spiego. Laura era in ritardo all'appuntamento di circa un'ora, non un ritardo così allarmante considerata la situazione. Magari Laura poteva aver smarrito il sentiero, oppure si era fermata a chiacchierare con qualcuno perdendo la cognizione del tempo. Insomma, queste non erano ipotesi da scartare. La denuncia frettolosa mette in allerta i carabinieri che aprono un fascicolo per omicidio. Inoltre nelle informazioni fornite dalle figlie ci sono dei dettagli che proprio non quadrano. Quali? Ebbene, all'atto della denuncia le figlie hanno affermato che la madre aveva dimenticato il telefono a casa in soggiorno. Questo è un fatto che stranisce perché Laura non era una novellina e sapeva bene che quando si esce per un'escursione in montagna bisogna portare con sé il cellulare. Quando gli inquirenti effettuano il sopralluogo nella casa di Temu trovano il cellulare della donna, ma non in soggiorno, bensì nella cantina incastrato tra una cassa panca e il muro delle scale. Rinvengono anche un orologio GPS che Laura indossava sempre, concepito proprio per gli escursionisti. E' un localizzatore, uno strumento essenziale perché se si verificano degli incidenti durante le escursioni permette a chi lo indossa di essere geolocalizzato. Eppure anche l'orologio viene trovato sopra un mobile. Ricapitolando, questa donna esperta di escursioni esce di casa per fare una passeggiata in montagna e si scorda sia il cellulare che l'orologio. La cosa stupisce anche gli amici che uscivano a fare passeggiate con Laura, i quali confermano che la donna non era mai sprovvista del suo orologio GPS. Altrettanto sconcertante è il fatto che il telefono di Laura non generi traffico dal 7 maggio, cioè dal giorno che precede la sua scomparsa. Eppure lei utilizzava i social network, in particolare Facebook, ed era solita navigare un po' sulla piattaforma prima di andare a dormire. Quanto alle dichiarazioni dei vicini di casa, questi non l'avevano affatto vista Temu. In realtà, nessuno pare averla incontrata e la cosa è piuttosto sospetta perché tutti la conoscevano. La sua dirimpettaia, peraltro, era una carissima amica della donna. Quando arrivava a Temu, Laura si fermava sempre a salutarla. Al contrario, in molti dicono di aver visto le figlie sul balcone mentre parlavano tranquillamente. Facciamo quindi un po' di chiarezza. Laura Ziliani era stata vista l'ultima volta in vita la sera del 7 maggio da alcuni vicini della casa di Brescia che avevano scambiato quattro chiacchiere con lei. Laura aveva detto loro che era molto felice perché avrebbe passato l'8 maggio, ossia il giorno della festa della mamma, con le sue due figlie a Temu. Intanto, anche i risi eseguono un sopralluogo nella casa di Temu e non individuano alcun indizio di violenza. Non ci sono traccematiche né di colluttazioni. Vengono analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza che avrebbero dovuto riprenderla mentre percorreva la strada che si snoda tra casa sua e il sentiero da cui iniziare l'escursione. Ma di Laura non c'è nemmeno l'ombra. Eppure lei seguiva sempre quell'itinerario. A questo punto la domanda sorge spontanea. Laura, è mai arrivata a Temu quel giorno? Le figlie nel frattempo si dimostrano alquanto meno freghiste dinnanzi alla tragedia della scomparsa della madre, ma soprattutto reticenti. Non aiutano le forze dell'ordine e chiaramente questo alimenta ulteriormente i sospetti. Il 29 giugno emerge che la procura di Brescia, in particolare il PM Cati Bressanelli, ha iscritto nel registro degli indagati Silvia e Paola, due delle tre figlie di Laura Ziliani, con l'accusa di omicidio. I loro racconti conterebbero alcune incongruenze, che conducono anche al sequestro dell'abitazione di Temu, dove Laura si recava non appena poteva. Il 1 luglio del 2021 l'inchiesta sulla scomparsa di Laura Ziliani si estende. Oltre alle due figlie della donna, la maggiore e la minore, la procura di Brescia iscrive nel registro degli indagati anche il fidanzato di Silvia, la primogenita, un giovane sotto i 30 anni di origine bergamasche, il cui nome inizialmente non viene diffuso. I tre sono indagati in concorso per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Durante la prima settimana di agosto una pioggia intensa ingrossa i corsi d'acqua e per questo motivo, forse, l'8 agosto 2021, viene trovato il cadavere di una donna lungo il torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temu. Il corpo è ricoperto da uno strato sottile di sabbia e terriccio, dunque bisogna capire se sia stato trascinato nel corso del fiume gonfiato dalle perturbazioni o dilavato dopo essere stato sommariamente sepolto. A individuarlo, ahimè, è stato un bambino di 10 anni che passeggiava con il cane e con il padre. Precisamente la zona del ritrovamento è al confine tra la pista ciclabile e il greto del fiume Oglio, non lontano dall'invaso della centralina Edison, all'incirca 500 metri più a sud, rispetto al punto in cui era stata trovata la scarpa da montagna appartenuta a Laura Ziliani. Questi luoghi erano stati perlustrati numerose volte nel corso delle svariate settimane di ricerca. La scientifica dei carabinieri sopraggiunge per effettuare accertamenti e le prime indagini sul cadavere rinvenuto che si presenta in avanzato stato di decomposizione, in parte disposto tra gli arbusti. Soltanto il test comparativo del DNA rivelerà se si tratta del corpo di Laura. Disposto dal sostituto procuratore di turno Alessio Bernardi, l'incarico viene conferito all'Istituto di Medicina Legale del Civile, diretto da Andrea Verzeletti. Da una prima ispezione esterna il medico legale non riscontra alcun segno evidente di traumi o lesioni particolari. Sulla donna si osservano brandelli di indumenti corrosi dalle intemperie, dalla terra, dall'acqua e dal tempo, ma non le scarpe. Come detto, una calzatura sportiva era stata riconosciuta dai familiari come appartenente a Laura. Era stata trovata il 23 maggio, proprio a 500 metri a monte rispetto al punto in cui viene poi recuperato il corpo senza vita di una donna. Considerando che la zona era stata più volte battuta accuratamente durante le ricerche, com'è possibile che quel corpo si trovasse lì? Per chi indaga, l'acqua detiene un ruolo fondamentale nella restituzione del cadavere. Innanzitutto, a distanza di circa un paio di chilometri, ci sono due dighe, dunque le correnti potevano aver trascinato il corpo fino a quel punto dell'argine. Oppure, ed è questa l'ipotesi più accreditata, le acque avevano dilavato e in più riprese la terra, scoprendo quel cadavere verosimilmente sepolto nelle vicinanze e non troppo in profondità. Ma come preannunciato, occorre in primis attribuire un'identità al corpo. Se le analisi biologiche confermeranno che si tratta di Laura Ziliani, allora si dovrà procedere con accertamenti medico-legali più accurati, quindi l'autopsia, gli esami tossicologici, ma anche l'esame approfondito di eventuali lesioni, non immediatamente visibili, per appurare la causa del decesso. L'unico a sbilanciarsi esprimendo il proprio parere sulla vicenda è Giuseppe Pasina, il sindaco di Temù, per il quale non ci sono dubbi. In un'intervista rilasciata all'emittente televisiva Telebuario, il primo cittadino parla apertamente di omicidio, aggiungendo anche che Laura Ziliani è sempre rimasta lì, sotterrata, fin dall'inizio. Il sindaco è infatti convinto che, nonostante la cautela degli inquirenti, il cadavere rinvenuto sia proprio quello della ex vigilessa. Ci auguriamo che sia il corpo della Ziliani, dichiara, perché si chiuderebbe questa triste vicenda. In paese, l'aria che si respira è che finalmente possiamo chiudere questa vicenda. Abbiamo trovato il corpo e ora abbiamo la certezza che Laura Ziliani è stata uccisa. Sono principalmente due gli elementi che, secondo il sindaco, provano la circostanza di una morte violenta e non accidentale. Uno, il ritrovamento del corpo della donna sotto uno strato di terra alto circa 20 centimetri, come se qualcuno lo avesse seppellito per impedirne il ritrovamento. Due, l'incongruenza del racconto delle figlie di Laura, in base al quale la madre era uscita di casa per una camminata in montagna. Tuttavia, il cadavere era stato ritrovato senza indumenti, con addosso soltanto la biancheria intima, anche se gli inquirenti avevano trovato brandelli pure di altro abbigliamento. Il 12 agosto emerge dall'autopsia effettuata agli spedali civili di Brescia che il corpo ritrovato semisepolto a temo presenta una ciste sotto il piede destro e degli orecchini. Questi elementi inducono già a stabilire che il cadavere è quello di Laura Ziliani. L'autopsia condotta dal professor Andrea Verzeletti, direttore dell'Istituto di Medicina Legale del Civile, non rivela però lesioni esterne così come l'attack che risulta negativa non evidenzia fratture interne. Si esclude quindi con tutta probabilità l'ipotesi iniziale di un incidente in montagna. Dunque, per vedere come fosse morta l'ex vigilessa, vengono disposti ulteriori accertamenti più approfonditi. Tossicologici, per valutare l'eventualità dell'avvelenamento e una serie di esami sullo stato degli organi interni. Anche l'ipotesi del soffocamento richiede altre analisi. Viene poi escluso che fosse stata pugnalata, strangolata o strozzata. Non si rilevano tagli e nemmeno fuori di entrata o uscita. In base agli elementi oggettivi e medico-legali disponibili in questa fase, non è possibile nemmeno escludere con assoluta certezza che Laura fosse rimasta vittima di un malore fatale. Si procede così all'ispezione del cuore, ma c'è un dettaglio che proprio non torna. Anzi, in realtà ce ne sono due. Insieme ai pendenti menzionati, al momento del ritrovamento, l'ex vigilessa indossava soltanto una canotta e un paio di slip, rinvenuti a brandelli. Si fatica a credere che un escursionista navigata come lei, expert di trekking, che tornava quasi ogni fine settimana sulle sue montagne e che, conosceva ormai a memoria i sentieri percorsi, sia uscita di casa senza un abbigliamento adeguato all'alba di quella mattina d'inizio maggio. In quota c'era ancora la neve ed è impensabile che Laura non indossasse una maglia termica, un maglione di pile e un paio di pantaloni adatti che non si sarebbero certo consumati in tre mesi, nonostante le intemperie, gli effetti dell'acqua e della terra. I brandelli di indumenti con cui Laura viene ritrovata non sono quelli consoni a una donna che si era preparata per una passeggiata in quota. Lasciano piuttosto pensare a un momento di riposo in un posto sicuro. Il 17 agosto arriva l'ulteriore conferma. Il corpo ritrovato l'8 agosto a Temu è di Laura Ziliani. L'esito degli esami del DNA cancella ogni dubbio sull'identità del cadavere. Il referto con la comparazione tra il DNA della donna ritrovata senza vita e quello di una delle figlie di Laura Ziliani, ossia Lucia Lamezzana, che è l'unica non indagata, viene depositato in procura dai medici legali degli ospedali civili di Brescia. Tuttavia sono ancora molte le domande risolte sulle cause della morte di Laura e gli inquirenti continuano a indagare. Nei polmoni non è stata individuata acqua. Il corpo di Laura, di certo, non era stato immerso a lungo, nonostante l'acqua, secondo gli inquirenti, abbia giocato un ruolo cruciale nel suo ritrovamento. Come detto, affiorano due ipotesi. Il cadavere era stato trascinato da un punto a un altro dopo le esondazioni dovute alle precipitazioni abbondanti, oppure era stato dilavato prima di rientrare nell'alveo, svelando dunque una sepoltura artigianale. È questo un punto fondamentale dell'inchiesta, perché il cadavere di Laura Ziliani si presenta, sì, in avanzato stato di decomposizione, ma tutto sommato ben conservato e per nulla gonfio. Non sembra sia stato esposto per tre lunghi mesi alle intemperie, agli agenti atmosferici e all'azione impietosa degli animali selvatici, tutti insetti compresi. Non si può quindi escludere che il corpo senza vita di Laura sia stato spostato deliberatamente da un punto all'altro. Si ipotizza che in prima battuta sia stato costudito in un luogo più asciutto e riparato dalla terra e dalla sabbia, non sono stati peraltro trovati residui di sacchi o teli. In un secondo momento è probabile che sia stato portato nel punto in cui lo ha notato un bambino di passaggio lungo la pista ciclabile in vacanza con la famiglia. Un luogo meno umido e più protetto dunque. In tal caso, perché una simile scelta? Fa parte di un piano ben orchestrato? Anche gli organi interni della donna si presentano in buono stato come evidenza l'autopsia approfondita condotta dal professor Andrea Verzeletti alla presenza dei consulenti di parte. Potrebbero quindi rispondere a una serie di interrogativi. L'analisi del fegato, per esempio, dovrebbe consentire di accertare se Laura Ziliani sia stata narcotizzata o addirittura avvelenata, tanto che gli investigatori prevedono di passare al setaccio anche le farmacie della zona. Se la ex vigilessa, da anni impiegata negli uffici comunali di Roncadelle in provincia di Brescia, aveva ingerito sostanze tossiche, il suo corpo dovrebbe restituirle. E in questo caso bisogna stabilire se le aveva ingerite volontariamente o per mano altrui. Meno accreditata, anche se non impossibile in questa fase, è l'ipotesi del soffocamento, che però solitamente lascia segni esterni più evidenti. La mattina del 24 settembre 2021 si assiste a una nuova svolta nelle indagini. I carabinieri del comando provinciale di Brescia eseguono un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Brescia nei confronti della figlia maggiore, la 26enne Silvia, e della minore, la 19enne Paola, di Laura Ziliani, nonché del fidanzato della prima, Mirto Milani. Mirto è uno studente universitario di 27 anni che gestiva le attività delle sorelle dal giorno della sparizione di Laura e che, formalmente, risiede nella Bergamasca. Le tre pattuglie dei carabinieri di Breno, alle 7, si infilano nella stretta strada di Ca Moschè, a Roncola San Bernardo, e si fermano davanti alla prima casa, sulla sinistra. È quella nella quale, da qualche mese, si è trasferito Mirto Milani con il padre Ruggero, la madre Mirna Donadoni e i fratelli Aaron, Jael e Hazar. Mirto, Silvia e Paola avrebbero dunque ucciso in casa Laura Ziliani la sera del 7 maggio, cioè il giorno prima della denuncia di scomparsa. Denuncia fatta soltanto per depistare le indagini. Il cadavere sarebbe stato poi occultato in un luogo che ne ha permesso la conservazione per tre mesi. Gli accertamenti tossicologici eseguiti dall'Istituto di Medicina Legale di Brescia hanno riscontrato la presenza di benzodiazepine nel corpo della ex vigilessa. La donna, quindi, è stata drogata e poi uccisa. Secondo gli inquirenti erano stati Paola, Silvia e il fidanzato di quest'ultima a somministrare a Laura del bromazepam. Siamo davanti a un quadro indiziario. Quattro mesi e mezzo di investigazioni serrate hanno portato però a ribaltare la versione originaria, quella della scomparsa e della morte naturale, riferisce il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, e aggiunge. Naturalmente il condizionale si impone nel senso che non abbiamo alcuna certezza. La nostra è un'ipotesi che al momento riteniamo fondata grazie anche al contributo che ha dato l'Istituto di Medicina Legale di Brescia, che ha individuato delle tracce di sostanze che, probabilmente, hanno determinato la causa della morte o contribuito alla sua determinazione. Ma c'è un'altra sconvolgente novità. Nelle indagini risulta che, probabilmente, i tre avevano già provato a uccidere Laura o, quantomeno, a renderla inoffensiva. Si pensa volessero tarare gli effetti che determinati psicofarmaci avrebbero potuto sortire in base alle quantità o alle modalità di somministrazione. Un aspetto sul quale il sostituto procuratore Cati Bressanelli si sofferma nella sua richiesta al GIP di misura cautelare in carcere, dedicando un paragrafo proprio allo strano malore che Laura Ziliani aveva accusato a metà aprile, dopo un'escursione molto impegnativa al Presena, che è un ghiacciaio. L'episodio era dunque avvenuto tre settimane prima della sparizione, al termine di una cena con i ragazzi nella casa di Temu. Per il PM, quella sera, Laura sarebbe stata avvelenata dalle figlie e dal fidanzato della maggiore con una tisana. La stessa Laura avrebbe raccontato a una vicina di casa di quella sonnolenza insistente e della spossatezza prolungata per circa 48 ore. Sottolineava che una cosa simile non l'era mai capitata prima. Lei, una donna abituata all'escursione in montagna, anche le più impegnative, ed esperta di trekking e vette, accusava sintomi compatibili proprio con l'assunzione di antidepressivi o ipnotici come le benzodiazepine, conferma il comandante dei carabinieri di Breno, Filiberto Rosano. Di questo caso Rosano si è occupato da subito, sin dalla prima chiamata in caserma con cui le figlie di Laura segnalavano che la madre non era ancora rientrata dalla passeggiata. Una telefonata tempestiva al punto da sembrare sospetta. Anche il compagno della ex vigilessa e un vicino di casa confermano che Laura, a due giorni di distanza da quella cena di aprile, era ancora in condizioni anomale. Tale dichiarazione per il PM dimostrano come questo episodio altro non fosse che il prodromo dell'omicidio consumato la notte dell'8 maggio. Del resto il 26 giugno i militari avevano trovato un flacone di bromazepam pieno fino a un terzo nell'appartamento di Via Galvani a Brescia. Silvia, la fisioterapista lungodipendente in una struttura della RSA, Residenze Sanitarie Assistenziali, del suo paese, stando alle indagini tecniche, avrebbe sottratto il farmaco, quetiapina a 50 mg, per provarne gli effetti dell'assunzione con l'alcol. Il 18 luglio, parlando al telefono con la sorella Paola, le avrebbe detto di essere stata malissimo, tanto da non volerci più riprovare. Un episodio che per gli inquirenti documenta la facilità con la quale l'indagata poteva procurarsi benzo diazepine oltre a conoscerne gli effetti. Non solo. In una conversazione registrata il 7 luglio tra Paola Zani e un'amica che le chiedeva cosa avrebbero potuto trovare nei computer sequestrati dentro casa dalle forze dell'ordine, la figlia di Laura Ziliani si mostrava preoccupata. Riferisce che su un canale crime Mirto ha fatto alcune ricerche su come uccidere la gente, piante velenose, crimini perfetti, serial, torture. Ma aggiunge, anche io e mia sorella siamo iscritti a un canale denominato True Crime, che ha contenuto informativo. Attenzione, non True Crime, ma proprio True Crime. T-R-O-U. Non ho ben capito. Non l'ho neanche trovato cercando questo canale, quindi penso che non esista più. Però. Come detto, le indagini avviate dai militari della compagnia di Breno, parallelamente alle ricerche, avevano evidenziato numerose anomalie nei racconti forniti dai tre arrestati. La versione del malore in montagna o quella dell'infortunio erano state ritenute poco credibili dai carabinieri a procura. Il 23 luglio i tre già indagati si erano presentati spontaneamente in caserma, accompagnati dal difensore per consegnare i propri cellulari per gli accertamenti. Tuttavia, i dispositivi risultavano resettati, quindi del tutto inservibili a fini investigativi. Nell'ordinanza il GIP Alessandra Sabatucci precisava che Silvia Zani spontaneamente dichiarava di essere una persona riservata e di non avere messo prima l'apparecchio nella disponibilità degli investigatori perché, cito testualmente, Provavo vergogna all'idea che altre persone potessero vedere foto e conoscere dati della mia vita privata e attinenti alle pratiche intime con il mio fidanzato, Mierto Milani. Mi vergognavo anche che si venisse a sapere che mi eri scritta a un sito di scambisti. La primogenita di Laura negava di aver avuto l'intenzione di intralciare le indagini. Quanto alla sorella minore Paola Zani, questa giustificava il proprio pregresso comportamento asserendo di provare vergogna all'idea che altre persone potessero venire a sapere che ho una relazione con il fidanzato di mia sorella, Mierto Milani, informava il GIP. Quindi, in base a quanto emerso, Mierto stava se con Paola che con Silvia. Secondo gli inquirenti, il movente dell'omicidio di Laura è di natura economica. I tre indagati avevano un chiaro interesse a sostituirsi a Laura Ziliani nell'amministrazione di un vasto patrimonio immobiliare al fine di risolvere i rispettivi problemi economici. Altro dettaglio chiave per spiegare il movente di natura economica è l'eredità del marito. Il valore complessivo del patrimonio ereditato è stimabile fra i 3 e i 3 milioni e mezzo di euro. Si tratta nello specifico di 15 diverse proprietà immobiliari sparse fra i comuni di Brescia, Concesio, Temu, Malonno e 7 terreni agricoli. Secondo il GIP Alessandra Sabatucci, il proposito omicidiario è frutto di una lunga premeditazione e di un piano criminoso che ha consentito loro di cilare per lungo tempo la morte e di depistare le indagini. La premeditazione sarebbe comprovata anche dalle intercettazioni. Mierto ha fatto ricerche su come uccidere gente e crimini perfetti, avrebbe detto Silvia. Dalle intercettazioni telefoniche a cui fa riferimento l'ordinanza emerge anche come le sorelle Silvia e Paola, a 20 giorni di distanza dalla scomparsa della madre, in circostanze misteriose, già si congratulavano l'un l'altra per i soldi che di lì a breve avrebbero incassato, riuscendo a dare un anticipo per una nuova vettura e probabilmente anche ad andare in vacanza. Il 17 giugno, mentre erano in corso le indagini sull'omicidio di Laura, Marisa Cinelli, l'anziana madre della donna aveva riferito ai carabinieri. Ho sempre avuto l'impressione che tutti, sia Mierto che le mie nipoti, siano troppo attaccati al denaro. Aveva poi concluso dicendo, io non credo che mia figlia si sia smarrita nel bosco, continuo ad avere il dubbio che nemmeno sia uscita dalla sua abitazione la mattina dell'8 maggio 2021. È il mio cuore di mamma che lo dice. Quanto alla famiglia di Mierto di origini lecchiesi, dal lontano 2009 si era spostata da Olginate alla frazione Sala a Calolzio Corte e ancora prima aveva abitato a Garlate usando la casa a Roncola per le vacanze. I Milani si erano trasferiti a Roncola quando erano cominciate le indagini, probabilmente in cerca di tranquillità. E nel borgo di tranquillità ne regna anche troppa, tanto che nemmeno i cellulari hanno campo. Ci sono cinque case in tutto, vecchie cascine ristrutturate e dotate di parabole, di cui una è stata trasformata in bed and breakfast. Si notano erba rasata, sentieri curati, un grande gazebo con tricolore e un campo da bocce con lo striscione riferito a un torneo. La casa dei Milani è la più grande, si affaccia sulla valle dove rintoccano i campanacci delle mucche, si struttura su tre piani ed è dotata di un ampio piazzale, una terrazza, un giardino, un orto e un ricinto con delle galline e oche. Il trasferimento in questa oasi verde però non è bastato a tenere la famiglia al riparo dagli inquirenti e dai media. Anche il giornalista di una tv locale era sopraggiunto e Ruggero Milani aveva chiamato i carabinieri per mandarlo via. Poi ha coperto veranda, corridoio e porta con delle tende ingombranti e ha chiuso i sentieri che circondano la casa con corde e cartelli di proprietà privata. Un vicino anche gli di Garlate, come Milani, dichiara di limitarsi a salutare la famiglia ma di non essere in confidenza con i suoi membri. Li conosce meglio il parroco di Roncola, don Andrea Pedretti. Non li vedo molto a messa ma ne parlano come di gente molto generosa, afferma l'uomo. In famiglia sono tutti musicisti, i genitori suonano il flauto traverso e insieme ai figli hanno animato la messa di Natale. Anche Mirto negli ultimi tre anni ha fatto diversi concerti di chitarra e ha messo, spesso, suona e canta. Ha una voce sottile da soprano. L'ultima volta è stato due domeniche fa con la sorella al violino. Forse lo faceva per distrarsi dall'indagine. Il parroco aveva seguito la vicenda bresciana ma non sapeva che Mirto Milani fosse coinvolto. È stato lui a venire da me un giorno e a dirmi «Ha saputo di questa storia?» Così ne abbiamo parlato. Mi ha detto che non aveva niente a che fare con l'omicidio ma anche che lui e la famiglia erano sconvolti da come erano stati trattati dagli inquirenti. «Ci hanno umiliati» mi ha detto. In seguito si sono occupati di loro anche alcune trasmissioni televisive. Hanno parlato anche della forma dei suoi denti. Lo hanno descritto come un mostro. Non entro nel merito della vicenda ma non credo sia giusto comportarsi così. Nel mondo del 27enne la musica ha un ruolo importante. Alle scuole medie suonava la chitarra. Con il sax tenore era entrato nel gruppo musicale Giuseppe Verde di Calolzio. Frequentato anche dai genitori. Aveva studiato pianoforte all'istituto musicale Zellioli di Lecco. Poi era passato al canto operistico come autodidatta e si era unito al coro Gospel di Valmadrera. Si era diplomato geometra. Poi si era laureato in psicologia a Bergamo prima di intraprendere il percorso accademico al Conservatorio Verdi di Milano. Milani vanta diverse esibizioni e concerti eseguiti negli anni anche da solista soprattutto nelle chiese della Valle San Martino e nella chiesa parrocchia Sant'Agnese a Olginate dove è particolarmente conosciuto. Come detto dopo l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Brescia ed eseguita dai carabinieri del comando provinciale Mirto è stato arrestato, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere come Silvia e Paola, due delle figlie della vittima. Il 7 maggio 2021, il giorno prima della scomparsa di Laura, Mirto Milani aveva passato la serata e poi la notte nello stesso appartamento dove il giorno dopo aveva fatto colazione. Nell'ultimo periodo si era dimostrato molto interessato alla situazione finanziaria della Ziliani tanto da voler amministrare personalmente alcuni suoi immobili. Le indagini hanno ricostruito il rapporto molto stretto e confidenziale che lega Mirto a entrambe le sorelle. Dalle 38 pagine dell'ordinanza della custodia cautelare emerge un profilo delle due ragazze molto contrastante con il video appello concesso alle telecamere della trasmissione di Rai 3 chi l'ha visto nei giorni delle ricerche. Le sorelle Zani, lacrime molto scosse, imploravano. Chiunque abbia qualsiasi informazione venga a riferirla perché qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla. Vi prego, qualunque segnalazione abbiate, anche se l'avete vista di striscio per favore ditecelo perché potrebbe servire davvero pochissimo per indirizzare le ricerche nella direzione giusta. Secondo gli inquirenti le ragazze non avevano mai mostrato un simile coinvolgimento emotivo anche in altre circostanze. Infatti dall'intercettazione telefonica che vi ho letto in precedenza risulta tutt'altro. Le sorelle si congratulavano l'un l'altra per i soldi che a breve avrebbero incassato per poi commentare Tanta roba, troppo figo. In questo loro scambio gli investigatori ravvisano L'assenza di qualsivoglia turbamento circa le sorti della madre e la loro unica preoccupazione sembra rivolta agli aspetti economici della vicenda una condotta già di per sé di indicibile gravità ancora più odiosa dove si ponga a mente il fatto che hanno privato la sorella soggetto disabile del tutto dipendente dalla madre dell'unico genitore superstite. Ciò nonostante, il trio criminale composto da Silvia, l'impiegata, Paola, la studentessa modello diplomata con il massimo dei voti o riscritta all'università e Mirto, il musicista, si è mosso in maniera poco accorta e prudente disseminando indizi a destra e a manca. Marisa Cinelli, la mamma della vittima e nonna delle ragazze, come già riportato, dice Ho sempre avuto l'impressione che tutti e tre fossero troppo attaccati al denaro Mirto gestisce gli averi della famiglia Zani e Zigliani come fossero i suoi Lui e sua madre si occupano degli appartamenti di mia figlia al punto che lei, dopo la scomparsa, avrebbe contattato qualche affittuaria intimandole di saldare i debiti e di consegnarle la somma di denaro La nonna ricorda anche una lite fra sua figlia e Mirto Lei mi disse che lui l'aveva accusata di spendere troppi soldi per la ristrutturazione degli appartamenti di via Balardini Laura rimase basita per il fatto che si era intromesso in questioni familiari non sue Le mie nipoti avevano ricevuto 40.000 euro di eredità dal padre Laura aveva chiesto di investirle nella ristrutturazione degli appartamenti da locare Non erano d'accordo con le scelte della madre e gli scontri erano all'ordine del giorno Un'amica di Laura mi ha detto che a Pasqua le aveva confidato di avere paura delle figlie Rivela invece il sindaco di Temù, Giuseppe Pasina, che ricorda la stranezza di quella famiglia Le ragazze uscivano poco, non avevano molte amicizie, direi caratterialmente un po' chiuse Solo la mezzana è simpatica e aperta Stessa idea ha il parroco del paese, Don Martino Le salutavi e non ti rispondevano nemmeno Comunque anche il ragazzo è molto particolare, non vorrei che le avesse plagiate Le sorelle frequentavano la chiesa e l'oratorio dove incontravano anche le figlie di Nicoletta Chirica La vicina di casa Siamo di rimpettaie, Silvia e Paola sono cresciute con le mie bimbe E io ero amica di Laura Dopo la scomparsa Nicoletta era andata a casa loro Dicevo andiamo a cercarla E loro Non possiamo, i carabinieri non vogliono Non era vero In primavera Laura mi aveva detto di aver dormito 36 ore di fila Aveva bevuto una tisana preparata da Silvia Nicoletta sospira e scuote la testa sulla soglia di casa concludendo Per me sono dei mostri Quanto al giudice rispetto a Paola, Silvia e Mirto Si esprime così I tre indagati avevano un chiaro interesse a sostituirsi a Laura Nell'amministrazione di un vasto patrimonio immobiliare Al fine di risolvere i rispettivi problemi economici Intercettato il 31 maggio al telefono con un amico Mirto mentiva Ipotizzando che la mamma della sua fidanzata Se ne fosse andata volontariamente Per farsi credere morta E scappare dai creditori Ma Laura Di debiti Non ne aveva Eppure Mirto raccontava La situazione disastrosa Spende più di quanto prende Magari nel tempo ha dirottato i soldi su un altro conto E adesso si sta facendo la bella vita da qualche parte Era arrivato addirittura a insinuare Più o meno velatamente Che la sua scarpa a destra Da trekking Potesse averla lasciata lei di proposito 500 metri a monte rispetto al punto in cui L'8 agosto sarebbe poi stato recuperato il suo cadavere Ricapitolando Per gli inquirenti l'intenzione che aveva spinto i ragazzi a uccidere Laura Era chiara E il proposito omicidiario Era frutto di una lunga premeditazione Che aveva permesso Ai tre indagati Di organizzare un piano criminoso Utile A celare per lungo tempo La morte della donna E a depistare le indagini A loro carico Ciò nonostante Il crescendo di contraddizioni Contenute nei loro racconti Aveva generato In poco tempo Sospetti E innescato le indagini Dei carabinieri di Breno Il trio avrebbe abbandonato Intenzionalmente la scarpa destra di Laura Mirto e Paola Avrebbero occultato La scarpa a sinistra due giorni dopo Partendo appositamente da Brescia In un boschetto isolato Tra le ortiche Ma solo per sbarazzarsene definitivamente Purtroppo per loro Sono finiti nell'occhio curioso O meglio Nel binocolo Di un vicino Che non appena si sono allontanati Insospettito dai loro movimenti È andato a recuperare quella scarpa Nel torrente avrebbero gettato anche un paio di jeans Avvistati da una residente Per gli investigatori Questi sono tutti goffi tentativi Di occultamento delle prove Che vanno a corroborare il quadro indiziario La notizia dell'arresto delle due figlie di Laura Ziliani E del fidanzato di Silvia Arrivata da Brescia Piomba in alta Valle Camonica Quando soltanto i primi lavoratori mattinieri Hanno già lasciato le loro case a temù La maggior parte della comunità Sta facendo colazione Ma la decisione della procura di Brescia Fa il giro del paese in pochi minuti Nei bar circolano subito voci e supposizioni Poi la conferma ufficiale da parte dei carabinieri Toglie ogni dubbio con un comunicato stampa È forse la fine di un incubo? Non saprei Risponde a questo quesito il sindaco Giuseppe Pasina Nel senso che il nostro paese Non ha mai avuto paura in questi mesi Che in libertà ci fosse qualcuno capace di fare del male Come alla Ziliani Un assassino che avrebbe potuto colpire ancora Questo mai lo abbiamo temuto D'altro canto Non conoscendo le figlie della Ziliani Credo che nessuno possa essersi fatto Un'idea precisa di quanto accaduto Poi aggiunge ancora Teniamo presente che le figlie della Ziliani Si erano trasferite con lei a Brescia E sono tornate a frequentare il nostro paese Soltanto l'autunno scorso Un po' per vivere con meno difficoltà Rispetto alla città Le limitazioni imposte della lotta al covid Un po' per seguire da vicino I lavori che stavano facendo nella casa paterna Per realizzare un bed and breakfast Nonostante questo non frequentavano il paese Anzi di fatto erano molto riservate schive Come sappiamo Paola e Siglia non sono le uniche figlie di Laura Ziliani C'è anche la sorella mezzana La 24enne Lucia La sola a non venire nemmeno sfiorata Dall'inchiesta sulla tragica morte Della loro madre Affetta da un lieve ritardo cognitivo Lucia viveva a Brescia con la mamma Al pubblico ministero che l'ha sentita Il 6 luglio aveva detto Di non fidarsi delle sorelle Hanno trattato male la mamma Si arrabbiavano spesso con lei Dicevano che non le manteneva Che non dava loro abbastanza soldi Soprattutto Paola Le mantiene la mamma Anche perché Silvia è stata licenziata Ben tre volte E da quanto ne so Non ricevono gli affitti degli appartamenti Perché è tutto bloccato Anche con Lucia Pare che i rapporti In realtà non fossero idilliaci Si arrabbiavano spesso Hanno preso il carattere del papà Che era violento e cattivo E diceva molte parolacce alla mamma Enrico Zani come riportato Era morto travolto da una valanga Nel 2012 Evento che a detta della ragazza Avrebbe causato uno stato di depressione In entrambe le sorelle La fiducia di Silvia e Paola Sarebbe venuta meno nel momento in cui Entrambe avevano iniziato a parlare male Della nonna materna Dicevano che è perfida come un serpente E altre brutte cose degli zii Intanto le due sorelle Continuano a chiudersi nel silenzio Come già fatto dinanzi ai carabinieri Al momento dell'arresto per l'omicidio Della madre e l'occultamento del suo corpo Sono detenute nel carcere femminile di Verziano Ci sono entrate in mano nella mano Senza dire nulla A rifugiarsi nel silenzio è anche Mirto Milani Il fidanzato di Silvia La sorella maggiore E amante della minore Paola Che si trova in isolamento Nel carcere di Canton Mombello Con le stesse accuse Il GIP lo considera Il manipolatore delle due sorelle Che incapace di contrastare la volontà della madre Hanno preferito sopprimerla Piuttosto che dissentire apertamente Con lei circa la gestione Del proficuo patrimonio familiare A un certo punto però Mirto Qualcosa L'aveva detto Gli inquirenti hanno rovinato la mia vita Si è sfogato una volta saputo di essere indagato Mentre si professava innocente Con Dona Andrea Pedretti Parroco di Roncola San Bernardo Dove come detto Si era trasferito negli ultimi mesi Insieme ai genitori In attesa che il direttore Dell'istituto di medicina legale Dell'ospedale civile di Brescia Andrea Verzeletti Depositi la sua relazione finale C'è un'ipotesi che si afferma Come quella più accreditata dagli inquirenti Sin dal momento in cui Sono arrivati i risultati preliminari Degli esami tossicologici E cioè La notte tra il 7 e l'8 maggio 2021 Laura Ziliani sarebbe stata narcotizzata Con delle benzodiazepine E poi Uccisa nel sonno Verosimilmente Per soffocamento non violento Nessun segno rinvenuto sul corpo Incapace di difendersi Dopo essere stata narcotizzata Una volta ridotta in stato semicomatuoso Tale da diminuire drasticamente Il numero di respiri al minuto Sarebbe bastato tapparle le narici O appoggiarle un cuscino sul volto Per impedirle senza troppa fatica Di respirare ulteriormente Resta comunque da accertare Esaminando il cadavere Quali elementi possano definitivamente Confermare questa tesi La quantità di ipnotico somministrato Per via orale In questo caso Bromazepam Come spiegano Gli specialisti rianimatori È in grado di indurre Uno stato di ipnosi Molto profondo Così profondo Da diminuire Gli atti respiratori Al minuto della vittima Come conseguenza Di una respirazione Meno frequente È verosimile Che la saturazione Dell'ossigeno nel sangue Cali sotto la soglia Raggiungendo un livello critico Che può anche ridurre Il numero di battiti Ossia Bradicardia Fino a causare Un arresto cardiaco Con il cuore Che si ferma Se quindi Adeguatamente somministrato Il bromazepam Non è un agente mortifero Potrebbe comunque Aver scatenato Indirettamente Una serie di reazioni Fisiologiche Che poi sono diventate Determinanti Per condurre Laura Al decesso O quantomeno Secondo chi indaga Hanno favorito L'intervento attivo Dei tre ragazzi Il giudice Per le indagini preliminari Di Brescia Alessandra Sabatucci Si reca Nelle due carceri Bresciane Per effettuare L'interrogatorio Di garanzia Sui tre arrestati A Canton Monbello La giudice Rimane nella saletta Degli interrogatori Con Mirto Milani Per 20 minuti Dalle 10.25 Alle 10.52 Tuttavia L'arrestato Difeso dall'avvocato Maria Pia Longaretti Si è avvalso Della facoltà Di non rispondere Alle domande Del GIP La stessa decisione Era stata attuata Anche poco prima Per 40 minuti Dalle sorelle Zani Detenute a Verziano La loro ultima richiesta Resta quella Espressa al momento Dell'arresto Avvenuto All'alba Possiamo farci Un caffè Prima di andare Entrambe Le loro avvocatesse Non vogliono Parlare Con la stampa E' già stato Pubblicato Tutto Cosa devo dire Si limita a commentare Maria Pia Longaretti Proprio per evitare I rapporti Con la stampa Nei legali Hanno ottenuto Di poter Entrare Nelle due carceri Direttamente In auto Condizione Non comune Per le strutture Bresciane La PM Cati Bressanelli Conta comunque Di risentire E tre arrestati Nel giro Di pochi giorni Mentre il GIP Del tribunale Di Brescia Alessandra Sabatucci Per arginare Il rischio Di reiterazione Del reato E di inquinamento Probatorio Ha confermato La detenzione In carcere Per Paolo Sigliazzani E per Mierto Milani Quando il medico Legale Andrea Verzeletti Responsabile Dell'istituto Di medicina Legale Al civile Di Brescia Deposita La sua Relazione Sulle cause Della morte Le conclusioni Del patologo Corrispondono A ciò Che gli inquirenti Si aspettano Laura Non è morta Per cause naturali Né si è tolta La vita Sarebbe deceduta A seguito Di un soffocamento Non violento Vista l'assenza Di lesioni E fratture Dopo essere Stata stordita Quindi Incapace Di opporre Resistenza Con Un composto Dell'azione Anziolitica E ipnoinduttrice I farmaci Da soli Senza un'azione Seguente Non potevano Comunque Averla uccisa Inoltre Secondo i patologi Dopo l'omicidio Avvenuto Tra il 7 E l'8 Maggio 2021 Laura Sarebbe poi Stata sepolta Per questo Il suo corpo Si sarebbe In qualche modo Conservato Il 7 maggio 2022 La procura Di Brescia Deposita Deposita L'avviso Di chiusura Delle indagini Sull'omicidio Di Laura Ziliani Per il sostituto Procuratore Cati Bressanelli Non c'è più L'ombra Di un dubbio La donna È stata uccisa Da due Delle tre Figlie Paola e Silvia Zani E da Merto Milani Fidanzato Della maggiore E amante Di entrambe Il PM Ha raggiunto Merto nel carcere Di Canton Mombello E nel corso Del lungo Interrogatorio Chiesto Dopo la chiusura Dell'inchiesta Il detenuto Ha confessato In sostanza Davanti agli inquirenti Avrebbe confermato L'impianto accusatorio Emerso Dopo i meticolosi E continuativi Accertamenti Dei carabinieri Coordinati Dalla procura Il 25 maggio Scorso Finalmente Arriva L'auspicata Svolta Dopo Merto Milani Anche Silvia Zani La primogenita Di Laura Ziliani Cede Confermando agli inquirenti Dopo un lungo Interrogatorio Di aver ucciso La madre Insieme al fidanzato E alla sorella Minore Paola Il giorno successivo Però Merto Milani Viene ricoverato In ospedale A seguito Di un crollo Emotivo Accusato In carcere Dopo la confessione Sull'omicidio Di Laura Ziliani Il giovane Di origini Bergamasche Avrebbe manifestato L'intenzione Di togliersi La vita Così è scattato Il protocollo Interno Al carcere Con il trasferimento In ospedale Dove viene Piantonato Le figlie Di Laura Ziliani Detenute nel carcere Di Verziano Vengono invece Spostate In celle diverse Silvia Come detto Ha ammesso Di aver preso parte All'omicidio Della madre A distanza Di pochi giorni Emerge che Le azioni Intraprese Tre settimane Prima dell'uccisione Di Laura Non si prefiggevano Non si prefiggevano Di effettuare Una prova Di avvelenamento Per testare I dosaggi E gli effetti Degli ansiolitici Ma si concretizzavano In un tentativo Di omicidio Vero e proprio Ad ammetterlo Sono proprio Silvia, Paola e Mirto Durante i lunghi interrogatori Del PM Condotti in carcere A uccidere Laura Ci avevamo già provato A metà aprile Mettendo i farmaci In una tisana Dopo cena Ma qualcosa E' andato storto Sarebbe stato proprio Mirto All'epoca Il meno convinto A tirarsi indietro Non sono riuscito Ad andare Fino in fondo Ho avuto paura Sempre stando Alle confessioni Del trio criminale Rese dopo la chiusura Dell'inchiesta A loro carico E' proprio allora Che hanno scavato La fossa Nel bosco Individuata poi Dai carabinieri Nel corso delle indagini A pochi metri Dal punto In cui si trovava Il corpo Di Laura Ziliani L'omicidio premeditato Per il jeep A lungo pianificato I tre ragazzi Sono usciti a compierlo La sera del 7 maggio Sempre nella casa Di Temù Le abbiamo dato Una tisana Hanno confermato Aggiungendo poi Una serie di dettagli Crudi e feroci Sulla dinamica Pressoché sovrapponibili Nelle tre versioni Infatti Secondo la loro versione Laura Ziliani Non sarebbe stata Sedata e soffocata Una volta rese inerme Dagli ansiolitici Le abbiamo messo Un sacchetto in testa Abbiamo provato A strangolarla Con una fettuccia In velcro Ma non ha funzionato La sete d'aria Ha provocato Le convulsioni E Laura Si agitava Non moriva Allora L'abbiamo strozzata Con le nostre mani Quelle mani Al collo di Laura Dicono di averle strette Silvia E Mirto Poi di notte Si sono messi in auto E l'hanno trasportata Madre dura Che le faceva sentire Sbagliate Inadeguate Stando al loro sfogo Incollerito Laura le avrebbe Perennemente sminuite A fronte invece Dei tanti risultati Che lei aveva ottenuto Nel corso della vita La sua posizione La sua ricchezza Il suo bell'aspetto Tutto a dispetto Delle figlie Che al contrario Svogliate e inconcludenti Non si erano ancora Come dire Sistemate Non resistevano più Avrebbero detto Agli inquirenti Stando a questa versione Inverosimile Per chi indaga Mirto Milani Dunque non ci avrebbe Guadagnato nulla L'ho fatto per amore Di Silvia Era la mia ragazza Spiega in lacrime Mirto Sembra davvero Il più provato Ed emotivamente distrutto Come prevedibile Dopo la confessione Arriva la richiesta Di rinvio a giudizio Per tutti e tre L'udienza preliminare Inizia In tribunale A Brescia Il 27 giugno 2022 Durante l'udienza Vengono affrontate Questioni preliminari Relativi Alla costituzione Di parte civile Dei fratelli Della mamma E della figlia Mezzana Di Laura Ziliani Pochi giorni dopo Mirto confida Al compagno di Cella Alcuni dettagli Del delitto Il detenuto Un cinquantenne Incarcerato Per reati fiscali Avvisa gli inquirenti Che riempiono La cella Di cimici Raccogliendo La confessione Di Milani L'ho fatto Per una questione Etica Perché Quello che hanno Commesso È mostruoso Dice l'uomo Al giornale di Brescia Mirto mi ha raccontato Che quella sera Lui Paola e Silvia Figlia le salta sopra Paola per tenerla Ferma Ma la mamma Non muore Con l'aiuto di Mirto Le mettono il sacchetto Di plastica Sulla testa E lo chiudono Con una fettuccia E una porzione Di prolunga Mirto Milani Mi ha detto Che c'è il dubbio Che sia stata Seppellita viva Senza che loro Ne fossero certi Laura aveva Convulsioni lunghe Conclude il detenuto La decisione Richiede Un'ora In camera di consiglio La discussione Dura poco di più Nessun approfondimento Viene affidata A un esperto Non in questa fase La difesa Aveva avanzato La richiesta Di procedere Con una perizia psichiatrica Per tutti e tre Agli indagati Ma questa Viene rigettata Al termine Dell'udienza preliminare Come chiesto Dal PM Cati Bressanelli Il GUP Gaia Sorrentino Dispone il rinvio A giudizio A carico di Silvia e Paola Zani E di Merto Milani Il 27 ottobre 2022 Devono comparire Davanti alla corte D'assise Presieduta Dalla prima sezione Penale Per l'omicidio Aggravato E premeditato Oltre che Per la soppressione Del corpo Di Laura Ziliani Come accennato Gli avvocati difensori Maria Pia Longaretti E la collega Elena Invernizzi Avevano tentato Di ottenere Una perizia psichiatrica Per i propri assistiti Speravano Potesse dimostrare Che non erano Del tutto in sé Quando avevano Ucciso Laura Presumibilmente Facevano leva Sulle dichiarazioni Rese da Merto Al compagno di Cella Nel carcere Di Canton Mombello Milani era stato tradito Dalle sue stesse confidenze Incastrato poi Dalle cimici Piazzate in ogni angolo Dagli inquirenti Che Con le registrazioni In pugno L'avevano indotto Alla piena Confessione Davanti al PM A oltre un anno Dai fatti Stando alle parole Di Mirto I tre avevano Ammazzato Laura Perché Sarebbe stata Proprio lei Ad avere intenzione Di avvelenarli Una tesi delirante Ma non abbastanza Da richiedere Un accertamento Psichiatrico Il trio criminale Così lo ha definito Il GIP Alessandra Sabatucci Nella sua ordinanza Di custodia cautelare Il 24 settembre 2021 Dovrà quindi Tornare in aula Silvia Zani Nella sua confessione Aggiunge Eravamo disperati Per i tentativi Di mia madre Di ucciderci E non sapevamo Cosa fare Secondo la nostra idea Mia madre si sentiva Bloccata Con tre figlie Di cui una disabile E l'idea che avevamo Era che Voleva liberarsi Di noi E già nell'estate Del 2020 Iniziamo a pensare Al modo in cui Risolvere il problema Cioè ucciderla Secondo i tre imputati Laura Ziliani Avrebbe tentato Di ucciderli Prima mettendo La candeggina Nel latte E poi con sostanze Caustiche Nel sale I tre avrebbero Però distrutto Le prove Il nostro incubo Era quello Di essere avvelenati Da Laura Perché non abbiamo denunciato Dal nostro punto di vista Se i carabinieri Avessero scoperto Che Laura Voleva farci del male Poi sarebbero Per deduzione Risaliti a noi Avendo la prova Della nostra colpa Fa verbalizzare Mirto Così lo scorso 27 ottobre Davanti alla corte D'assise di Brescia Si apre il processo A carico Delle sorelle Paola e Silvia Zani E di Mirto Milani Ci sono telecamere Fotografi in aula Ma gli imputati A testa bassa Chiedono Di non essere ripresi La signora Marisa Mamma di Laura Ziliani Arriva in tribunale Con i figli Massimo e Michele Nella prima udienza Del processo a carico Di chi ha ucciso Rispettivamente La figlia E la compagna La signora Marisa E il compagno di Laura Riccardo Lorenzi Sono stati chiamati A testimoniare Inizia Riccardo Che conosceva Laura Ziliani Da circa 4 anni E condivideva Con lei Soprattutto Lo sport E le escursioni In montagna Era il collante Tra di noi Dice Poi racconta La senti per l'ultima volta La sera del 7 maggio 2021 Quando mi chiamò In viva voce Mentre saliva Temu In auto Dopo il messaggio Della buonanotte Più nulla Fino a quando il telefono Trillò il mattino dopo Era un soccorritore Non troviamo Laura Mi disse Mi sembrava impossibile Non potevo crederci Poi ho capito Che era tutto vero La sua deposizione Si sofferma poi Sul weekend Di tre settimane prima Quella in cui Silvia, Paola e Mirto Avrebbero tentato Sia per l'accusa Che per la loro stessa Ammissione Di avvelenare Laura Era ansiosa Perché avrebbe dovuto Fare il scialpinismo In Presena Con due persone Che riteneva Più preparate di lei Quindi per tranquillizzarsi Prese pasticche Di bianco spino Omeopatico Ma si addormentò Di colpo vestita E continuò a dormire Per oltre due giorni Ho voglia solo Di stare a letto Sono ancora intontita Riccardo ricorda Le chat sgrammaticate La stanchezza Che non passava Tanto da dover essere Riaccompagnata In città Dalle figlie Non era da lei Dice E allora le chiese Ma non è che ti hanno Dato un tranquillante Che ti hanno avvelenato Sospettò Riccardo Cosa dici? Sono le mie figlie Si arrabbiò Laura Quando poi è scomparsa Inizialmente non ho pensato A loro Ma poi Mentre i giorni passavano Sì Ho iniziato a credere Che fossero coinvolte Le ragazze Un dettaglio Lo fece sussultare Da subito Quando L'otto maggio Arrivò a Temu Per unirsi alle ricerche E chiese a Silvia Come fosse vestita Come fosse vestita Laura Indossava un paio di jeans Rispose la figlia Impossibile La mamma non mette mai jeans Quando va a camminare Lo sai Ti ho detto che aveva i jeans Punto Nonna Marisa per un attimo Cerca di scorgere le nipoti Seduta al primo banco Riferisce di aver ricevuto La prima chiamata Dalla nipote più grande Che non la chiamava mai Precisa Alle 10.45 dell'otto maggio 2021 Tu forse sai qualcosa di mamma Non si trova più Le disse Poi Silve e Paola Venero da me Per dirmi che la madre Se ne era andata via Non sarebbe mai Sparita così Volontariamente Marisa ricorda poi Le discussioni Tra le nipoti Laura E Mirto Per la gestione delle case Mia figlia Mi riferì di essere Rimasta basita Dal fatto che lui Potesse intromettersi In maniera così Invasiva in faccende Che non lo riguardavano Era stata accusata Di spendere troppo Per le ristrutturazioni Ho sempre avuto L'impressione Che fossero troppo Legate ai soldi Anche la madre di Laura Era andata a Temu Cinque giorni Dopo la scomparsa Le mie nipoti Piangevano Ma mi davano L'impressione Di essere poco preoccupate Sembrava che Con Mirto Avessero costituito Un nucleo familiare A parte Lontani da me E dagli zii In aula È presente pure Lucia La figlia mezzana Con un amministratore Di sostegno Mia nonna È convinta Che le mie sorelle Siano colpevoli Io non sono certa Siano innocenti Aveva fatto verbalizzare I carabinieri Il 6 luglio 2021 E le sue parole Vengono rilette In udienza Dal presidente Della corte Le sorelle ipotizzavano Che la madre Fosse caduta in montagna O si fosse sentita male Ma quelle zone Le conosceva Come il palmo Delle mani Come già abbiamo Più volte detto Lucia aggiunge Di Silvio e di Paola Non mi fido più Trattavano male La mamma E si arrabbiavano Spesso con lei Dicevano che Non le manteneva Che non dava loro Abbastanza soldi L'ex compagno Di Cella Di Mirto Milani Sentito come testimone Nel corso del processo Davanti alla corte D'assise di Brescia Dice Parlare di amicizia Da parte mia È fuori luogo Ho sicuramente Raccolto le sue confidenze E c'è stata un'evoluzione Nelle sue dichiarazioni Perché È stata un escalation Fino alla confessione completa Sono stato io Il primo a parlare In cella Dell'argomento Della morte Di Laura Zilliani Perché l'ho fatto Inizialmente Per curiosità Lo scorso 25 novembre Emerge che il 24 settembre 2021 Prima di essere arrestati Silvia Paola E Mirto Avrebbero anche Riattivato Una chat di incontri Alla quale La ex vigilessa Si era iscritta Nel 2017 Già l'11 giugno Avevano registrato Un nuovo login Anche se Laura Era sparita L'8 maggio precedente Intendevano così Depistare le indagini Avevano modificato I propri dati cloud Su spostamenti E opzioni di sicurezza Disattivato Whatsapp E cambiato I telefonini Un piano Che viene ricostruito Dal luogotenente Dei carabinieri Di Ponte di Legno Fabio Centola Al termine Di un'udienza Durata Quasi Dieci ore Questo tentativo Si prefiggeva Di far ricadere La responsabilità Della scomparsa Di Laura Su altri Magari Su un uomo Conosciuto online Lo scopo era Dimostrare La presenza Di eventuali Conversazioni Con persone Malintenzionate Infatti Silvia Poco dopo Aveva chiamato In caserma Per segnalare Questa scoperta Agli investigatori Al vaglio Della deposizione Finiscono anche Le intercettazioni Fra i tre Che avevano creato Il gruppo Whatsapp Chiamato Puffoli Alla riscossa Per confrontarsi In quel periodo Si evidenziano Spostamenti Anomali E altre anomalie Relative Al cellulare Della vittima Trovato Nella cantina Della casa Di Temu Dove Non c'era campo Dissero che Laura Si era alzata Alle sette e cinque Salvo poi uscire Per un'escursione Ma tra le otto E le otto e venti Di quella mattina Il suo smartphone Memorizzò Trentotto passi Tanti quanti Ne servivano Per andare Al piano sottostante Conclude Fabio Centola Questo per ora È ciò che si sa Sul caso di Laura Ziliani Ma vi aggiornerò Sulla sentenza Del processo Detto questo Io ho finito di parlare In questo video Grazie mille Se mi avete seguito Fino alla fine Perché riconosco Che anche questo video Non è affatto corto Detto questo Cosa ne pensate voi Di questo caso Fatemi sapere Quello che volete Qui sotto nei commenti È un caso Sicuramente mediatico Ho fatto tanto parlare Quindi sono certa Che abbiate già Delle opinioni Insomma Quindi fatemi sapere Qua sotto Come al solito Come vi dico sempre Ci si becca nei commenti Nel frattempo vi mando Un bacione Noi ci vediamo Prestissimo al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi Continuate a mangiare Le verdure Che continuano a fare bene Ma soprattutto Prendetevi cura di voi E fate ciò Che vi rende felici Basta che non facciate Nulla di criminale Ciao a tutti Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti